Ciao ragazzi, ciao a tutti, eccomi di nuovo, sono Ebenman e oggi finalmente giocheremo a Call of Duty Advanced Warfare Allora, signori, purtroppo dovrò giocare con la qualità abbastanza proprio bassa, quindi a low, tutto basso, perché diciamo che non è che male il mio PC, no? Però il Call of Duty è abbastanza pesante come gioco e quindi dovrò mettere come qualità abbastanza abbastanza bassa, purtroppo è così, avrò anche un po' di lag, purtroppo è cosa ci posso fare? Niente, vabbè, lasciamo stare e andiamo a giocare questo grandissimo gioco Ok, siamo sul menu di questo gioco, di questo Call of Duty Advanced Warfare, andiamo in partita noi vai perché qui giochiamo ovviamente Team Deathmatch, il classico, la modalità classica di questo grandissimo videogioco, ecco, aspetta, vabbè, andiamo quindi Ok, siamo partita, siamo partita e vediamo se possiamo qualcuno uccidere Questi salti veramente sono grandissimi, eccolo uno, beccato, ho preso subito questa modalità nuova, mi piace tantissimo che si può fare questo, questo jump, no? Che salti tantissimo in alto, veramente una marcia in più per me, veramente mi piace questa, questa nuova idea che hanno creato, diciamo, ecco, a cui si fa il bagno, vabbè, cambiamo arma, l'arma gold Oddio, morte epica Eccolo uno là, vai, ecco, ho preso secco Voi là proprio, cioè non so se mi ha visto, ecco, forse non mi aveva visto Ovviamente voi non notate il lag, quanto sembra, perché a me veramente c'è, magari cado il framerate, basta mezzo secondo e sbagli tutto, ecco, sbagli completamente tutto Ma hai preso, una volta, con difficoltà, con questo fottuto lag Eh, Dio buono Eh, vabbè, dai Va bene, va bene, va bene, va bene Sì, quanti? Due? Sì, quazzo, va No, vaffanculo il lag, mamma mia, scusate la parola Ma, 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 ecco Va bene, va bene Va bene così, ragazzi, va bene, i sabini, i papini Eccolo da uno, va bene il nostro Si sta giocando in Grecia, come vediamo nella bandiera E abbiamo perso, ragazzi, abbiamo perso, va Ma no, madonna, le... Ma, mamma, no, non è, non è, non è accettabile sto leco, va Ecco, ma, mamma, ma, non so, non so cosa deve fare Dove comprare qualche, nuovo, dove mettere, non so, qualche Nuova, nuova, che ne so, va Perché io ho provato tutto, ecco, diciamo Ecco, uno, ancora uno, tre ne stessi No, ho provato a pulire le pc, con l'antivirus, tutto Sai, cancellare anche i programmi, i giochi, perché ne ho tanti, ma Ehm, non so, cioè Magari, magari devo comprare qualcosa, no? Cioè, che Per, per, diciamo Ehm, rinforzare il computer, ecco Poi, magari mi sbaglio E quello qua è grandissimo Ancora là, vai, benissimo Bravissimo, vai Ecco Bene, va bene, va bene, ragazzi Andiamo così, oh, oddio Ma neanche non l'avevo visto Chi spara qua? Eh, non spucci Nessuno qua? Facciamo il double Grandissimo, bravo Bravo, nascondiamoci adesso Nonostante ma... Ah, è bene, è bene, è bene Vittoria, finalmente abbiamo vinto Finalmente abbiamo vinto, ragazzi La vittoria, no, se è E forse è l'ultimo kill mio No, no, no È peccato, perché E poteva, poteva starci, no? Perché Era proprio alla fine Peccato Vabbè, va bene, abbiamo vinto Abbiamo vinto, vai Oddio, appena appena ucciso Con tantissimi Un secondo di lecmi è stato Bene, vai C'è qua Basta mezzo secondo Di lecmi dopo Soprattutto quando faccio il jump Mi zaga per mezzo secondo In questo Vedi, adesso solo sto saltando Per un po' distrarre i giocatori Ecco Bene, bene Io ho che non posso beccare Ma va Ma va Proprio In ritardo Di mezzo secondo Eh va Sì Vabbè Oddio Guarda Uff Sì Non la posso neanche beccare Ma cosa verrà sta qua Qualche turbo Bene Un assist Vai Dai ragazzi Dai Ma sì Non la vinciamo mai più Stacco Dai Quanta Due Scentanove Ma se ne va Dai Bravo Oh Grande Così Sì Come no Finita ragazzi Finita Finisce così ragazzi Concludo qua Il nostro video Di Call of Duty Niente Spero di risolvere il problema Quindi Magari se lo risolvo Faremo ancora ogni Un video riguardo Call of Duty Detto questo Derebbe manedutto Vi saluto E come al solito Noi ci vediamo Nel prossimo video Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo